Volete togliere anche le cause di salvaguardia per tutti gli altri anni? E' una cosa molto semplice, prendete la tabellina che avete mandato a Bruxelles, tanto ormai sono tutti i vostri amici, c'è Gentiloni, non credo che sia chissà che cosa strana e alzate il deficit per gli anni successivi. Gli dite, caro Gentiloni, basta con queste balle, via il deficit per gli anni successivi, è questo qui, e vedete che le cause di salvaguardia sono a zero. Cambia qualcosa, arrivano gli alieni, no, non succede proprio niente. Non succede proprio niente, perché, guarda caso, il debito e così via, quello che, ah Dio, ma non possiamo perché abbiamo il debito, un'altra delle clamorose balle, io continuo sempre a dirlo, ma scusate, a me piacerebbe che ogni tanto qualcuno facesse questa piccola riflessione, ma i 3 mila miliardi di debito pubblico dell'Eurozona, che sono in questo momento custoditi nelle banche centrali e segnatamente nell'eurosistema, quindi sotto la responsabilità della signora Lagarde. Ma se la signora Lagarde, domani, senza dir niente a nessuno, a nessuno di noi, con uno spruzzo di Chanel, perché è una donna molto raffinata, se li cancella, non nessuno lo sa, eh? Schiaccia un bottone e cancella i 3 mila miliardi di debito che si è ricomprato. Non lo dice, non ve lo dice in giro. Secondo voi cambia qualcosa al mondo? Io vi assicuro che domani mattina sorge il sole, andiamo col cane, prendiamo il caffè e cose di questo tipo, e il mondo non se ne accorge, perché quei miliardi sono stati ricomprati, non devono essere restituiti a qualcuno. Non c'è qualche investitore, come invece può essere nei casi della Popolare di Bari o qualche altra banca che non rivede più i suoi soldi. Quelli sono stati ricomprati, il signor Rossi aveva il titolo di Stato, l'ha venduto sul mercato, l'ha ricomprato la banca centrale, in questo momento quel titolo è detenuto presso la banca centrale e quindi non c'è nessun signor Rossi che deve riavere i suoi soldi. Li hanno già ricevuti. Quelli possono essere tranquillamente cancellati così come normalmente si fa con un bilancio consolidato. Quindi è una bugia quella di dire il debito se non c'è, se non c'è. Ma il debito in questo momento siamo a tassi negativi. Ma in teoria se uno dovesse andare avanti con i tassi negativi uno Stato dovrebbe farne di più per farsi dare più soldi. Non so se uno capisce l'assurdità del momento in cui stiamo parlando. Più debito fai, dato che siamo a tassi negativi, più la gente ci dà soldi. Immaginate un po' che problema deve essere il debito in questo momento.